segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te la guerriglia interna che non soltanto levo una formale protesta perché avete favorito il dottor frero bucci che io sono seduto nella poltrona più difficile del mondo si scivola fino a cadere nell'oblio ma la mia è più bassa della tua stai attento farò presente la mia politica interna la mia è la poltrona più bassa dello studio margelletti pretende una poltrona adeguata al suo peso è più difficile del puff di fracchia detto questo vi lascio una politica interna io provo a sopravvivere qua sopra allora torniamo però alle parole molto dure di boccini naturalmente deve rispondere a però vedevo vedevo che cerno era molto in disaccordo perché tommaso poi torno anche da lei romeo ovviamente no ma non è